Visto, andai, io, tu, anche su! Oggi vogliamo raccontarvi la storia di alcune persone che sono vissute tanto, tanto, aiutatemi a dire tanto, TANTO, tempo fa, i martiri di Abitene. Siamo nel 303 d.C. Il potente imperatore diocleziano odia i cristiani e quindi impedisce ai cristiani di pregare e di celebrare la messa. Tutti quelli che vengono trovati a celebrare la messa vengono arrestati e uccisi. È quello che succede a questi 49 cristiani che si trovano ad Abitene, una città che è nell'attuale Tunisia. Loro erano riuniti in una casa e stavano celebrando la messa e lì vengono sorpresi e vengono arrestati. Durante il processo verrà chiesto loro perché? Perché vi siete trovati a celebrare la messa anche se sapevate che era proibito? E uno di loro risponderà così, senza la domenica non possiamo vivere. Non possiamo essere cristiani senza celebrare la messa nel giorno della domenica. E questa cosa è vera anche per noi oggi ed è vera anche per voi bambini. Pensate che tra i martiri di Abitene erano presenti anche dei bambini. E uno di loro, interrogato durante il processo, disse così. Sono cristiano e di mia volontà ho partecipato alla messa con mio padre e i miei fratelli. I martiri di Abitene sono solo un esempio di come i cristiani di ogni tempo e di ogni luogo hanno sempre considerato la messa una cosa fondamentale, una cosa importantissima. Questo perché nella messa, nel giorno del Signore, noi riceviamo il nutrimento per la nostra fede. A cosa serve andare a messa? Bella domanda! A messa voglio andare! A messa voglio andare! Perché devo incontrare? Perché devo incontrare? Qualcuno di speciale! Qualcuno di speciale! E' proprio così! A messa facciamo tre incontri importanti. Io, tu, ma Gesù! Incontro me stesso! A messa possiamo fare un'esperienza interiore profonda. A messa ho il tempo di stare in silenzio, di riflettere su me stesso, sulla mia vita, di pensare, di pregare. Incontro gli altri! A messa possiamo fare esperienza di comunità, incontrare le altre persone che fanno parte della nostra vita. Incontro Gesù! Se vogliamo incontrare Dio, non è che dobbiamo pensare ad apparizioni o a miracoli. Gesù è realmente presente nella messa. È lì che noi possiamo ascoltare la sua parola, possiamo gustare la sua presenza.